È un desiderio, un appello che noi come Parlamento della Legalità Internazionale proponiamo all'attenzione di Papa Francesco e al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Vedete, sono dinanzi a noi ancora quei camion con tanti cadaveri che andavano verso un cimitero o un forno crematoio. Tra di loro ci sono anche sacerdoti, ci sono medici, infermieri, uomini delle forze dell'ordine che sono andati via. Sono andati via perché hanno dato la loro vita abbracciando la vita degli altri. Non si può essere egoisti, cattivi, arroganti, presuntuosi, pensare solo alla carriera, al portafoglio. No, si è meschini quando si è così. Noi siamo umani, vedete, è bastato un virus e ci hanno imprigionato a casa. Qualcuno ci è pure stato male. Penso a tutti coloro che non hanno potuto lavorare e hanno chiesto anche il pezzo di pane. Ma in questo momento, oltre al pane, chiediamo anche il pane della gratitudine. Non possiamo dimenticare, dimenticare questi uomini e donne meravigliosi che hanno avuto una chiamata, una vocazione, qualunque essa sia. Le hanno messe a servizio, a servizio della collettività, a servizio del bene. Più di cento sacerdoti sono morti, più di cento medici, infermieri, uomini delle forze dell'ordine, di tutti, di tutte le realtà. Tanta gente nell'anonimato se ne è andata. Se ne è andata perché? Perché ha stretto forse la mano, ha abbracciato il dolore degli altri. E allora noi, come Parlamento della Legalità Internazionale, chiediamo a Papa Francesco, chiediamo al Presidente della Repubblica di istituire la giornata della gratitudine. E' una giornata per poter pensare, riflettere, richiamare alla nostra mente questa gente meravigliosa e poter andare anche a un cimitero a portare un fiore in una cappella, nella cappella principale, per tutti coloro che, pur sapendo di rischiare, sono stati fedeli fino alla fine. Per noi la gratitudine occupa un posto molto importante. La lettera che abbiamo inviato a Papa Francesco e al Presidente della Repubblica, Seggio Martarella, è un segno forte che mette in luce quel sentimento di fraternità e di vicinanza verso tante donne e tanti uomini, forti e determinati, nel portare un segno dove la sofferenza ha avuto la meglio. Ed è stato emozionante vedere come tutta la famiglia del Parlamento della Legalità Internazionale ha parlato con lo stesso cuore e la stessa voce, nel dire sì alla giornata della gratitudine. E allora, crediamoci insieme, non costa nulla.